... tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti... Si resta a casa, si esce solo per motivi di estrema necessità, tutto questo per limitare i contagi da coronavirus. Lo ricordano le voci amplificate dagli altoparlanti delle auto in transito per le strade già deserte in città. Copri fuoco da scene che ricordano una guerra mai vissuta dalla nostra generazione o che sembra strappata ad una pellicola cinematografica di una storia apocalittica e surreale. Ma noi siamo qui ed è tutto vero. Si resta a casa, non si esce. Chi lavora sembra un soldato al fronte. Dalle piattaforme per il controllo della frutta che finisce nei supermercati, ai medici e infermieri che sono in prima linea per curare le persone, le forze di polizia che sorvegliano il territorio. I carabinieri del Comando Provinciale di Benevento stanno eseguendo controlli, controllati alcuni esercizi commerciali e identificati alcune persone durante gli spostamenti sul territorio provinciale. I carabinieri hanno denunciato la titolare di una pizzeria di Benevento perché aperta, oltre all'orario consentito e in presenza di clienti. Denunciate anche una estetista e la sua cliente perché beccate nel centro estetico aperto. A San Marco dei Cavoti il titolare di un bar è stato trovato dai carabinieri della locale stazione mentre continuava a tenere aperta la sua attività, oltre all'orario consentito. Anche qui il barista, oltre alla denuncia penale, è stato segnalato all'autorità amministrativa. A Baselice, invece, i carabinieri del luogo hanno sorpreso un 33enne di San Marco dei Cavoti fuori dal proprio comune di residenza senza avere una giusta motivazione. Spostandoci verso la Valle Caudina, i carabinieri di San Leucio del Sagno hanno denunciato un 34enne di Benevento che si trovava ad Apollosa senza un motivo urgente. Stessa scena a Cautano, dove ad essere denunciate sono state due persone, un pensionato di Roma e un 33enne della provincia di Caserta che si aggirava in paese senza avere motivi validi. Questa è la situazione sul fronte dei controlli che le forze dell'ordine stanno portando avanti per garantire il rispetto delle regole indispensabili per arginare il pericolo Covid-19. Il problema, in molti casi, è la superficialità di alcune persone che perdono di vista il reale problema, ovvero la pandemia, e pensano a come poter eludere i controlli della polizia per uscire di casa senza motivo. Il buonsenso è la prima arma in nostro possesso per rallentare e magari evitare il contagio. Non lo dimentichiamo. Se proprio si vuole uscire di casa, c'è un ottimo motivo per farlo, donare il sangue presso il centro trasfusionale dell'ospedale Sampio di Benevento, dove per donare in piena sicurezza è stato attivato il servizio di prenotazione. Ecco allora, uscire di casa avrà un senso.